Fate come... Hai raggiato il mio che dice... Dai! E dai! E dai! Incrocia il braccino! Guarda che c'è il bastone lì! Stai attento! C'è il bastone, vai tranquilla! Senti qualcosa di duro! Qualcosa ti tocca! Almeno... Un'inverso! 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 E' più meglio! Forza! No, con quella! C'è quello pulito! Annaggia la miseria! No! Guardatevi negli occhi! Guardatevi! Guardatevi! Non è il piatto negli occhi! Scusate ma è filmato questo! No, non negli occhi! No! Sarà duro lì! Sarà duro! Quanto mi date? Perché se non parlo... Parlo!